Tempo, dimensione nella quale si concepisce il trascorrere degli eventi. Qualcosa è successo e è accaduto in un certo momento. Memoria di un passato sempre presente. La civiltà lentamente avanza, giorno dopo giorno, secolo dopo secolo, pietra dopo pietra. Ricordi di un territorio, immagini passate di una vita che è stata. Pietre dure, pesanti, stanche, sudate, gelide, ma sempre presenti. Da oltre un millennio, la Chiesa Romanica di Carlo è stata. Andia è il muto testimone che tesse il passato con il presente. Un eremo in pietra, destinato a restare negli anni l'imponente sentinella che veglia sul territorio chiamato Canavese.